L'Arno anche in provincia di Arezzo sta toccando il suo minimo storico così come gli altri corsi d'acqua che attraversano la provincia. La siccità nonostante le piogge delle ultime ore è ancora un grosso problema ed in alcuni comuni si rende necessaria la razionalizzazione. È il caso di Castiglione Fiorentino dove il sindaco Mario Agnelli con una ordinanza ha vietato su tutto il territorio comunale di usare l'acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da quelli igienico-domestici. No dunque a riempimento di piscine o annaffiamento di parchi, giardini e orti. Sono esclusi dal provvedimento parchi e giardini pubblici per i quali però l'ufficio tecnico è obbligato a limitare al minimo l'utilizzo dell'acqua potabile. Ovvio l'invito ai cittadini a risparmiare la risorsa idrica con tutti i mezzi, ad esempio anche quello di non lasciare aperte al termine dell'uso le fontanelle pubbliche.